bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale andiamo subito a farci una bella notata e via angry shark è tornato chiaramente ragazzi anche questo è stato rincominciato ovviamente perché anche lui era legato all'account vecchio di facebook come vi dicevo nel video dove non c'era l'audio e quindi raga tutti i salvataggi che avevo fatto anche qua nulla da rifare perché facebook una volta che cancelli l'account te li toglie ovviamente eldorado vediamo qualcosa di buono raga ottimo non dura tantissimo e quindi ciò sì essendo che ho cambiato l'account tutto quello cavolo prima è stato è stato tolto attenzione andiamo qua quindi raga va beh poco male si rincomincerà questo si rincomincerà anche angry dragon tutto quanto ragazzi tutto quanto giurassic world giurassic park tutto 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 giurassic world non se ne volevo prendere l'altro ma l'avete già visto già fatto due video quindi ci stiamo ci stiamo ci stiamo lì prendiamo questa non è per nulla veloce ok poi anche qua era andato avanti raga non so se vi ricordate però vabbè anche nell'altro ma piano piano ripeto faremo tutto senza problemi proprio i tonni di tonni qua meglio meglio questi fanno bene perfetto attenzione alle meduse raga ma le vacanze siete già stati pensate andare sott'acqua e vedervi questo spettacolo di di pesci non gli squali perché devi avere paura però attenzione qua meglio bene 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 benissimo 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 poi dopo raga aumentiamo qualche caratteristica perché è veramente lento io andiamo eccoli qua bella ok qua c'è un forziere che apriamo subito forziere quotidiano aperto pericolosissimo questa zona andiamo subito via bomba più squalo non è molto bello qua eh non è per niente bello qua cerchiamo di non morire mi serve un bel gruppo di pesci ragazzi salute criticissima ok qualcosa abbiamo trovato fortunatamente e via abbiamo tutta la vita di nuovo ok ok un po' di robe l'abbiamo ritrovata qua eh ah grazie raga tra l'altro eh guardate qualche roba grazie del supporto ai video che mi state dando vedo che comunque mi seguite sempre in maniera costante grandissimi e ragazzi tra l'altro vi chiedo anche di visto che piano piano youtube non l'abbandono eh chiaramente ma vorrei spostarmi anche su twitch raga vi chiedo anche la cortesia di iscrivervi a twitch raga perché lì ci andremo a fare le live perché non si possono caricare i video come ben saprete ma si possono fare le live e quindi andremo a fare le live di apex fortnite no ragazzi perché sono veramente una una pippa ma apex e magari i prossimi giochi che usciranno vorrei iniziare a ad avere dei follower anche ahia dei follower anche su twitch ragazzi perché merita merita come piattaforma assolutamente meno male che qua abbiamo trovato eh gli squali sono cattivi però eh merita come piattaforma twitch ragazzi e ho proprio bisogno anche di espandermi rispetto a youtube perché su su attenzione eh sono morto siamo morti raga adesso ne facciamo un'altra perché su instagram siete 250 ragazzi quindi anche lì se volete iscrivetevi come su twitch ma proprio devo anche espandermi rispetto a youtube perché ne abbiamo bisogno ragazzi mi servono altri iscritti da altre parti così da potervi portare anche le live perché le live su youtube sono più complicate il twitch è più veloce più immediato clicchi due tasti e sei pronto tra l'altro quei commenti di tutti quelli che ti seguono e quant'altro non è male qua andiamo pure avanti allora abbiamo sbloccato qualcosa forse avevamo già sbloccato non mi ricordo ragazzi qua sono tutti quelli ti fai vedere tutte le misure vabbè lo sappiamo già ragazzi dovrei avere un s da qualche parte ok va bene no voglio usare questo qua s però mi ricordo che me ne aveva sbloccato uno ma non mi ricordo dov'è no assolutamente sono io che sbaglio evidentemente ma mi sembra strano ragazzi perché mi sembrava di averlo proprio sbloccato no vabbè poco male raga andiamo a modificare questo qua nel frattempo usiamolo allora velocità assolutamente morso spinta ok quelle al massimo ok abbiamo finito le monete perfetto no questo qua no mangia la spazzatura bonus cibo 2000 monete poi qualcosa qui raga andremo a sbloccare perché sono molto utili questi qua qua cos'è che mi manca da vedere questo asset no grazie forse c'è ah questo qua eh l'abbiamo già visto ok ok allora qua invece ragazzi possiamo andare a mettere nulla perché abbiamo già usato tutte le monete per migliorarlo quindi ce ne andiamo a fare un'altra direi al volissimo bene 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 ok e via power up non ne abbiamo chiaramente al momento ok qua raga voglio proprio eh beh si vede che è più veloce eh molto molto meglio effettivamente chi c'è qua via presi presi voglio mangiare questa qua perfetto andiamo sotto andiamo sotto andiamo sotto questo è nostro ehi vieni qua ok missione completata perfetto altri diamanti ci mangiamo lo squalo qui no la bomba no subito così no c'è il dorado dammelo adesso l'el dorado porca miseria raga ovviamente mi darà l'el dorado quando non ci saranno pesci no no siamo morti subito ma no ma no ma no ma no nuovo oggetto sbloccato ok no no non ci interessa inarrestabile ah ok va bene allora guarda 150 ore una singola partita di volo 3 turisti in una partita facciamo questa qua al volo raga così poi metto il video sul canale subito subito già sbloccata la missione questa è una due e tre perfetto sono veloci le tartarughe le hanno fatte veramente veloci bellissimo copertina raga vediamo la copertina del video G chi è questo? cosa vuole? squalo ce la mangiamo ok qua c'è un bel casino di roba no no dov'è? vieni qua che ti mangio a te ah non si può non si può non si può ragazzi via 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 qua che squalo serve? lo squalo eh ma scusate io che squalo eh no questo qua è proprio il base lo squalo che non può fare nulla se non mangiare i pesciolini piccoli nuovo livello eldorado che vi ho detto? quando faccio eldorado ragazzi non c'è niente sempre eh niente abbiamo perso ragazzi vabbè comunque vediamo un attimino abbiamo fatto due missioni tra l'altro quindi nuovo record incredibile a caso ok ok vediamo cosa abbiamo sbloccato ragazzi buddy bene raga tanti like tanti commenti iscrivetevi a twitch iscrivetevi su instagram e ci vediamo al prossimo video bello a tutti